Io volevo solamente ringraziare tutto il lavoro che c'è stato dietro per potermi riportare a casa, quindi ringrazio tantissimo lo Stato italiano, il Ministero degli Affari Esteri, l'Unità di Crisi, ringrazio tantissimo tutto il movimento che a quanto pare ha sostenuto la mia famiglia e la mia liberazione e volevo solamente dire che sto bene, che spero poter continuare a lavorare nella cooperazione. Io credo che sia una cosa molto importante, quindi so che per molte persone è un lavoro rischioso, è un lavoro difficile e il rischio l'ho vissuto in prima persona, ma spero che non mi fermi, non fermi me e nemmeno tutto il resto della cooperazione e basta, non ho molto più da dire. Chiaramente a volte sì, a volte è capitato, ma sono stata trattata bene, sono stata trattata bene, adesso sto bene, sono in forza e quindi adesso finalmente è finito.